Gioca il Sunday Special con un monte premi garantito di 200.000 euro, solo sul più grande sito di poker in Italia. Un po' agitato qua, per questo dei tre. La mosca, andiamo al tavolo finale. I hope this big crowd power. Allora siamo qua, abbiamo dormito, perché c'è la modino buona le carte. Un saluto a tutti.